Salve ragazzi! Oggi andiamo a spiegare l'esercizio di pagina 307, numero 5, del testo esatto. È un esercizio di base sul significato di frazione. Scriviamo la data, la pagina e il numero sul quaderno e ricopiamo il testo. Ve l'ho detto, disegna un segmento lungo 12 centimetri e considera i suoi tre quarti. Punto. Seguono tre domande. Qual è la frazione di segmento rimasta? Come si chiama questa frazione? Quanto misura? Bene, una volta che abbiamo scritto il testo e lo abbiamo letto, andiamo a disegnare la figura. Ci viene chiesto di disegnare un segmento lungo 12 centimetri. Prendiamo il righello. Senza righello questo problema non si può risolvere. E andiamo a disegnare il segmento AB è lungo 12 centimetri. Ora, il testo ci dice, considera i suoi tre quarti. Cosa vuol dire considera i suoi tre quarti? L'intero va diviso in quante parti? Va diviso in quattro parti, come dice il denominatore? O va diviso in tre parti? Va diviso in quattro parti. Ricordatevi che il denominatore ci dice il numero di parti in cui va diviso l'intero. Il denominatore, il numeratore, ci indica invece quante parti ne prendiamo in considerazione. Quindi cosa vuol dire considera i suoi tre quarti? Vuol dire che dobbiamo dividere il segmento in quattro parti uguali e considerare tre di queste parti. Allora, ma 12 centimetri diviso 4, quanto fa? 3 centimetri e disegniamo quattro segmenti di 3 centimetri sul nostro segmento più grande. E quante parti ne dobbiamo considerare? Tre. Quindi abbiamo diviso il segmento in una, due, tre e quattro parti e ne consideriamo tre quarti, tre quarti di AB. Quindi AB è lungo 12 centimetri. Ne consideriamo una, due, tre parti dopo averlo diviso in quattro. Ok? Ora andiamo a rispondere alle domande. Qual è la frazione di segmento rimasta? Allora, se io ne ho considerato tre quarti, qual è la frazione di segmento rimasta? Allora, la frazione vuol dire che è una parte dell'intero. Ok? Rimasta vuol dire che io non l'ho presa in considerazione. Allora, se una frazione andrà scritta sotto forma di numeratore e denominatore. Ora il problema è, come la indico questa frazione? In quante parti ho diviso l'intero? In quattro. Dove va scritto? Al denominatore o al numeratore? Qual è la parte della frazione che mi indica in quante parti ho diviso l'intero? Il denominatore. Quindi l'intero è diviso in quattro parti e lo scrivo qui. Quattro. E quante parti ne prendo in considerazione? Questa parte qui. Questa è una, queste sono due, queste sono tre, tutte sono quattro, ma è questa da sola quante parti sono? Una. Quindi, se io prendo in considerazione tre quarti, me ne rimane un quarto. Ok? Quindi, un quarto è la risposta corretta. Come si chiama? Come si chiama questa frazione che mi è rimasta? La frazione che mi manca per arrivare all'intero. Io ho tre quarti. Quanto me ne manca per arrivare a quattro quarti? Perché tutto questo vale quattro quarti. Quattro parti. Ok? Quattro parti di quattro. Ok? Come si chiama la frazione che mi serve per arrivare all'intero? Se io ne ho tre quarti. Si chiama frazione complementare. E la scriviamo dove? Qui. Frazione complementare. Ok? Quindi, la prima risposta. Qual è la frazione di segmento che è rimasta dopo che io ne ho tolto tre quarti? Un quarto. Come si chiama questa frazione che mi manca per arrivare all'intero? Frazione complementare. Quanto misura il segmento che io ho preso in considerazione? Tre quarti. Quanto misura? È facilissimo. Basta prendere l'intero, 12 centimetri, dividerlo in quattro parti. 12 diviso 4, il risultato è 12 diviso 4 per 3. Una, due, tre. Quindi tre quarti. Quanto misura? 12 diviso 4 per 3, per 1, per 2, per 3. Ok? 12 diviso 4, 3 centimetri. 3 centimetri per 3, 9 centimetri. Ok? Spero sia stato chiaro. Se ci sono altri problemi, contattatemi.